Sono le 11.20, vi diciamo l'ora perché veniamo anche dal Palazzo del Carmine dove il giudice Montalto ancora si spulciano le varie sezioni per arrivare alla proclamazione degli eletti e dobbiamo dire che ancora molto probabilmente non ce la faranno per oggi, almeno così si prevede e si dovrebbe rimandare eventualmente al lunedì, ancora comunque non abbiamo contezza se questo avverrà. Però nel frattempo sappiamo alcune cose, sappiamo che gli uffici comunali, la dottoressa Maria Pia Motisi sta chiamando quelli che sono gli eletti per pagare il dovuto, spieghiamoci, prima spieghiamo, cioè succede chissu. Se un consigliere comunale eletto ha un contenzioso col comune, nel senso che c'è tassi repari, che sia Munnizza, che sia Atari, che sia Limo, qualsiasi tassa, deve mettersi in regola prima del giuramento perché altrimenti non può essere eletto. Cioè nel senso che non deve avere pendenze economiche col comune, altrimenti non viene eletto. Ora ci sembra strano che gli uffici, e in questo caso appunto la dottoressa Motisi, chiami lei i consiglieri comunali eletti e li inviti a pagare, quando dovrebbero essere i consiglieri a pagare, senza bisogno di essere chiamati. Ma non solo questo, tra le altre cose appunto si rinunerano eletti che fa un po' avano, ecco l'altra anomalia che abbiamo avuto modo di vedere nello scioglimento per impulsazioni mafiosi, dove abbiamo trovato lunghe pagine di consiglieri comunali o di parenti di consiglieri comunali, eccetera, eccetera, che non hanno pagato a suo tempo le tasse. Diciamo che tra le altre cose c'è anche quel famoso contenzioso della Gettonopoli, dove ben tre consiglieri comunali eletti annaglieranno a pagare immediatamente, nonostante ci sia ancora il contenzioso in corso e si aspettano le decisioni da parte del magistrato per quanto riguarda appunto questa Gettonopoli. Credo che siano i consiglieri Nuccio Latona che devono pagare appunto quelli che sono i gettoni percepiti a quanto pare indebitamente, il consigliere Mauro Lobbaido e la consigliera Eleonora Rappa, credo che siano questi i consiglieri con la Gettonopoli. Poi ovviamente ci sono tanti altri consiglieri che vengono chiamati, che hanno a girappare, perché hanno a pari i tasse comunali che fino ad oggi non hanno pagato. Fatta questa premessa, noi siamo in attesa che appunto il giudice Montalto chiuda quello che è questo controllo nelle schede, questo controllo nelle varie sezioni e si proclamino finalmente gli eletti. Se si tolga questo contenzioso che a quanto pare c'è in bilico la centineo detta Totò a favore di Amoroso, dovrebbero essere 14 a 10 e quindi c'è ancora questo bilico per qualche consigliere comunale appunto che rimane in attesa dell'eventuale elezione a me. Ma fatta questa premessa, noi abbiamo avuto modo di vedere ieri sera il sindaco che lavorava già fino a tardi, perché guardate, e non lo dico per polemica, già i primi impegni presi dal sindaco per i primi 100 giorni credo che siano stati già realizzati, nel senso che sono in etirene, mi spiego meglio. Le caditoie per esempio si stanno punendo, la Dastri li sta punendo, nonostante poi erano al capitolato, però poi al momento dell'appalto questi caditoi che toccavano alla Dastri dover pulire sono scomparsi, quindi c'è ancora questo contenzioso, per cui tra le altre cose credo che presto il sindaco dovrà affrontare questo argomento, ma intanto però la Dastri li sta punendo, come? Ecco, facendo un servizio in meno e un lavoro in più, che non ci spetta, cioè mi spiego meglio. Uno, la spazzatrice dovrebbe passare 5-6 volte la settimana, invece a quanto pare la fanno passare 3-4 volte, e due volte che si risparmia ripassare la spazzatrice nel frattempo si puliscono caditoie, quindi si stanno pulendo le caditoie. Questo era uno dei punti del sindaco. Per quanto riguarda per esempio l'illuminazione pubblica, ieri abbiamo avuto modo di vedere che sono stati messi i 9 lampioni a CAA, attenzione, è un appalto caro signor sindaco, la ditta, poi nell'appalto abbiamo saputo che ha 70 più 30 giorni di tempo per poter mettere tutti i 6.000 punti luce a parte di NICO, e cioè, attenzione, sulle mette entro gennaio è omissiva, ed essendo omissiva si va alla recessione del contratto, non è che parliamo di cose, quindi non è che sta facendo una cortesia che a gennaio finisce di illuminare il paese, lo ha per patto fatto, perché addirittura io sappia prima che erano 60 giorni, entro 60 giorni doveva mettere tutti i 6.000 punti luce, quindi è in itinere l'illuminazione del paese, dobbiamo ringraziare che l'appalto è stato portato a termine, perché prima c'era contenzioso con l'ex sindaco De Luca, addirittura non si voleva fare paitere, poi invece questa privatizzazione è stata fatta, l'appalto partì e devono necessariamente rispettare i tempi, perché se non rispettano i tempi incorrono in molte, in recessione, incorrono in tante cose, quindi questo è un'altra cosa che hanno a fare, e quindi già quest'altro punto, o sindaco, è puro fatto, ma perché è in itinere. Poi c'è il problema delle scappe, o delle strade, o delle buche, abbiamo avuto modo di vedere che ovviamente hanno tapezzato, arrepezzato, proprio alla vecchia maniera, proprio come si dice, se ci mettono i tappi in tutte quelle che sono le buche del paese, che continuano a farle, e tra le altre cose vorrei ricordare che sono state fatte alcune strade per intero, da parte della Commissione straordinaria con fondi comunali, e addirittura c'è la strada, che è il Viale dei Platani, che porta verso l'autostrada, che addirittura ci vicino pure la pista ciclabile, ma attualmente c'è un camioncino, sempre capisce che i buffer li hanno, quindi questo è un altro punto che il sindaco, ora vedete come chi sta dicendo che tutti questi punti sono già fatti o in itinere. Quindi la videosorveglianza, la videosorveglianza, caro signor sindaco, la vecchia funziona a Pettinico con Canavero, anzi le faccio vedere, anzi ora le facciamo vedere che c'è pure la videosorveglianza qui davanti al Comune, e quindi la videosorveglianza è in funzione. Altro punto fatto, cioè se il chiedro che lei doveva fare nei primi 100 giorni già è in itinere, è fatto, vediamo di prendere altri punti e altri argomenti che possono portare appunto benefici a questa città. Ci è stato chiesto, per esempio, ne porto un esempio, nessuno ha parlato in campagna elettorale degli anziani e della casa di riposo che Pettinico ha perso. Vorrei ricordare che la Canonico Cataldo, regalata dalle signorine, è stata donata per essere casa di riposo. Di stesso economico ha corsetto alla chiusura di quella casa di riposo e adesso si potrebbe riaprire. È pur vero che ce l'ha fino a giugno in consegna la scuola Danilo Dolci, che dobbiamo anche ringraziare per averla tenuta bene e non perché se è chiusa e abbandonata la scuola avesse venuto e invece è tenuta bene, ma in tanti sono gli anziani che ci chiedono se ritornerà e se si riaprirà. La casa di riposo. E tante invece sono le domande. Prima che si insedi un consiglio comunale, che non sappiamo, credo che dopo la programmazione hanno 15 giorni di tempo per poter convocare il consiglio comunale, insediarsi, giurare e tutto il resto, prima che si insedi il consiglio comunale il sindaco può benissimamente dare vita a tante cose, a tante emergenze e quindi tra le altre cose decidere cosa fare anche della canonica Cataldo, decidere cosa fare se resterà questo segretario comunale, se la macchina amministrativa con i capi settori resterà in questa maniera. Insomma ci sono tante cose e tante domande che a suo tempo poi gireremo per il sindaco, ma quello che volevo dirvi per chiudere è che ci sono già tante cose che la commissione straordinaria ha lasciato in itinere e che erano nei primi 100 giorni del sindaco Rao che potrebbe benissimo passare a tante altre emergenze di cui ha bisogno la città di Partenico.